venerdì 29 marzo. La mattina lasciamo Pordenone e andiamo a Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia, il borgo si è sviluppato intorno al castello, con un intreccio di calli e campielli medievali. Splendidi i portici che impreziosiscono le numerose case signorili del centro storico, decorate con stemmi e statue. Dopo la visita andiamo codroipo per vedere il parco delle acque risorgive, poi andiamo a vedere Villa Manin. Villa Manin, è un gioiello d'arte e di storia, con i suoi 8500 metri quadri di sale, corridoi, affreschi, e altri edifici storici, e, la cappella di Sant'Andrea, il tutto inserito in 18 ettari di parco all'inglese, Villa Manin è una delle più grandi ville venete d'Italia. Lasciamo codroipo e andiamo a San Vito al tagliamento dove acquistiamo provviste per oggi. All'ora di pranzo arriviamo a Sesto al Regan. Si tratta di un piccolissimo borgo le cui strade raccontano una storia millenaria. Particolarmente interessante è l'Abbazia di Santa Maria in Silvis, vero e proprio gioiello di architettura medievale che custodisce un tesoro di affreschi. Superato Portogruaro arriviamo a Caorle e facciamo sosta nel grande parcheggio all'ingresso della cittadina. Andiamo in centro a fare una bella passeggiata lungo mare. C'è tanto sole e caldo e si sta veramente bene. Caorle è una cittadina di mare molto carina, tutte le case del vecchio centro storico, sono colorate. Dopo aver passeggiato lungo mare, vediamo il Duomo e ci fermiamo per gustare un ottimo gelato crema e zenzero. Alle 19 rientriamo al camper e notiamo che nel piazzale dove ci siamo fermati ci saranno almeno 150 camper. Domani andremo al centro sportivo per vedere i nostri nipoti che partecipano ai campionati italiani di scherma. Vuoi leggere il diario? www.idiari di antero e meri.blogspot.com